Questa è la nostra porta Tutte le parti che arrivano In questo quadrato di due metri Per due praticamente Non serve buttarsi Tutto quello che stai di qua Devo buttarmi Resta in eccezione Questo angolino qua Che è ancora difficile Perché qui o faccio un tuffo proprio spettacolare Oppure faccio questo proprio Devo spingere in alto molto bene con le gambe E qui vi do due alternative Pronto? Stai Visto? Visto come sai buttarsi? Sì Bravo Bravo Vado a prenderla Vado a prenderla Muovo le gambe veloce Muovo le gambe Tutto in quel quadrato te le butto Sì bravo Lascia là Torna Venti là Fai Più forte Ok Iniziamo piano Bravo Sì bravo Elion Sì bravo Sì bravo Luca Alzati Sì Lui ti la piano Lui ti la piano Ecco Lui ti la piano Elion No Veloce Torna al posto Sì così Bravo Sì Indietro Forte Torna Vado Bravo Luca Vado indietro però Come dirà? Bravo Stop Bravo Bravo Visto Sì bravo torna Eh bravo Beh bella deviata Va bene ok Stop Piano questo vai Bravo Veloce Sì bravo Veloce 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 Bravo Si sono le mani Lui di qua Cura una E' imparabile Vai E' imparabile E' imparabile E' imparabile Bravo Bravo E' imparabile Bravo Bravo Grazie a tutti.